Nei mesi scorsi l'archivio storico di Villa Soranzo è stato oggetto di numerose operazioni di ricerca e censimento. Sabato 21 settembre dalle 15 l'invito è quello di scoprirlo, grazie anche alla presenza di delegati della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, dell'Archivio di Stato di Novara e dell'archivista dottor Sergio Monferrini. Il pomeriggio sarà anche l'occasione per un approfondimento sul Museo Archivista. Grazie a tutti!